Per conquistare una ragazza dovete dirgli spesso che l'amate, anche se vi vergognate. E poi dovete comprare fiori, dovete fare tante cose. Io non so proprio tutto quello che dovete fare. Alcune cose che dovete fare ne so, ma io non so queste cose. Quindi vi ho detto, compragli dei fiori, fagli dei regali e poi un'altra cosa, dirgli spesso che l'amate. E vedrete che le conquisterete.